Per un marinaio, una mappa parla di mari da esplorare, di ricompense e di pericoli. Ma è dove la mappa finisce che inizia la vera avventura. Dov'è? Non la vedo! Guarda di là! È sotto di noi! Una nave da caccia non è roba da bambini. È formidabile! Mi piace lei! Le immagini dei libri sono diventate realtà! Perché è nella vastità dell'ignoto che scopriamo chi siamo veramente. Tranquilla. Se ce n'è anche solo uno nel raggio di un miglio, io lo percepisco. Devo essere un po' fuori allenamento. Grazie a tutti! Grazie a tutti!